Fate largo! Sono l'agente McCorn, abbiamo un codice 1031. Ci penso io! Cosa? Agente Ops, sono all'inseguimento! Puoi identificare una targa? Flash, qui è il più veloce di tutti. Qualunque cosa gli chiedi, la fa all'istante. Aspetta. Sono tutti bradipi? Cosa non starai dicendo che un bradipo non può essere rapido? Flash, flash, 100 metri in un flash! Sono contento di vederti. Sono contento anche io. Agente Giudì Ops, rapidizzata, come va? Direi che va... Bene. Bene. Cosa non ancora? Posso fare... Beh, speravo che potessi identificare... Per voi? Beh, speravo che potessi identificare... Beh, speravo che potessi identificare una targa, ed è anche molto urgente! E il numero della targa? 29T... Qual è? 29THD03 2 9 T H-D-03 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 D-03 D-03 0-3 0-3 Ehi, Flash, ti faccio un indovinello? No! Sì! Bene. Come si chiama? Un cammello a tre gobbe? Non lo... so... Incinto! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha... Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Sì, divertente, molto divertente! Ora... Aspetta, aspetta, aspetta! Viscilla! Oh, no! Sì? Flash? Come? Sì? No! Chiama! Un cammello a tre gobbe incinto! Ok, ormai l'ho detto! Per favore, non... Svelto! È quasi un'ora di punta e... È notte!